Ha dato l'ok la conferenza dei servizi regionale per il ripascimento delle spiagge di Sassonia penalizzate a causa dell'erosione marina. Ieri il comune di Fano ha chiesto all'ARPAM e alla regione Marche, che ha la competenza sulla difesa della costa, una deroga per poter fare un ripascimento d'emergenza e l'incontro si è concluso in modo positivo. Un risultato questo raggiunto dopo mesi di lavoro e con non poche difficoltà burocratiche, lasciando grossi disagi ai concessionari e ai bagnanti. Dalla prossima settimana dunque potranno essere prelevati 6.000 metri cubi di ghiaia dalla focce del Metauro e utilizzati per sistemare le tre spiagge interessate, dall'Anfiteatro Rassat al Porto, però con alcuni accorgimenti. Infatti i lavori dovranno essere eseguiti all'alba fino alle 9 del mattino per garantire così la sicurezza di cittadini e turisti. Sicuramente questa è una notizia positiva perché effettivamente dopo il nuovo decreto 173 del 2016 che impone il divieto di fare ripascimento quando c'è la stagione balneare, quindi dal 1 maggio al 30 settembre. È quindi una legge nuova ed è la prima volta che si applica questa legge che ha una serie di conseguenze alla regione Marche. Quindi siamo il primo comune che applicando questa legge e le prescrizioni previste in questo decreto ministeriale, anzi, fa il ripascimento. Per ottenere questa deroga sono state fatte delle analisi biologiche e granulometriche per misurare lo stato della ghiaia. Questi procedimenti hanno richiesto del tempo portando a ritardare i lavori di ripristino delle spiagge. Abbiamo chiesto un permesso per portare 20.000 metri cubi nel giro di due anni e l'attività d'emergenza è 6.000 metri cubi, che comunque è una quantità molto importante che preleveremo appunto dalla barra di foce e non era scontato neppure questo risultato che appunto altri comuni stanno aspettando. Quando incontrerà i bagnini e l'associazione di categoria? Allora con l'associazione di categoria siamo ovviamente in contatto frequente. Oggi pomeriggio li incontreremo, li esporremo quali sono state le problematiche, ma soprattutto qual è la soluzione che abbiamo raggiunto e credo che troveremo delle soluzioni per non dar fastidio a nessuno, soprattutto a chi frequenta le spiagge.